Ed eccoci giunti all'informazione pomeridiana di Onda TV, ancora passeggiate in gruppo. Lettera dei residenti delle Marane, servono più controlli. Andrea D'Aurelio. A preoccupare sono le passeggiate in gruppo che creano un assembramento. Questo non vuol dire che non si può uscire per fare un'attività fisica, purché sia individuale. Siamo spettatori giornalmente di un continuo andirivieni di gruppi di persone che passeggiano completamente indifferenti alle norme di vieto, sia di assembramento che di uscite per cose non importanti, scrivono i residenti a Onda Tg. Nonostante anche i commenti in TV e sui social riguardo questa situazione, noi notiamo anche un'assenza dei controlli da parte delle forze dell'ordine e avendo conoscenze sappiamo per certo che anche nelle frazioni di Mitrofe si manifesta la stessa identica situazione con notevole non curanza. Speriamo in un più incisivo intervento in modo da bloccare questa situazione con l'agurio di uscire presto dall'incubo che stiamo vivendo, concludono gli abitanti delle Marane. In verità la polizia locale ha effettuato una serie di controlli la scorsa domenica, non rivelando nulla di anomalo. I residenti chiedono di potenziare il monitoraggio in quella zona. Gli agenti della polizia locale, nel video postato da sindaco sul saluto agli esercenti che non possono stare a casa, hanno parlato di una città che tutto sommato si sta responsabilizzando e ha modificato le proprie abitudini. Stiamo andando molto bene, siamo dislocati sia con pattuglie automontate che pattuglie appiedate per controllare sia il territorio per quanto riguarda le chiusure e le sospensioni dell'attività commerciale in genere che con pattuglie quindi appiedate per controllare quindi le persone e i loro movimenti di spostamento. Fino adesso praticamente è andato tutto bene, le persone stanno rispondendo benissimo alle varie prescrizioni e ai vari bidetri che ci sono. Abbiamo fatto un bel foglio di dichiarazioni, le persone sono abbastanza controllate diciamo e escono per motivi validi, quindi senza esagerare. La situazione appare decisamente più tranquilla nel centro storico. Nell'ora dello struscio, le 19.30 di ieri, tutte le strade erano deserte, un deserto che Sulmona conosce per dirla con le parole di una celebre canzone. Tutta mia la città, tutta mia la città, tutta mia la città, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà. Fila per le mascherine e il rischio assembramento, il dietrofonte del comune. Troppi assembramenti davanti al comune per la distribuzione delle mascherine. Il sindaco decide di cambiare le modalità della consegna. Succede a Pratola Peligna, dove il sindaco Antonella Di Nino, dopo che i preziosi dispositivi erano praticamente introvabili, aveva pensato di farli confezionare da uno stilista pratolano per poi distribuirli gratuitamente alla popolazione. Ma la richiesta è stata talmente alta che il primo cittadino ha dovuto interrompere la distribuzione, anche alla luce della segnalazione arrivata dal circolo del gruppo Partito Democratico e da Pratola Insieme, che hanno stigmatizzato la decisione del comune di distribuire pubblicamente le mascherine, contravvenendo le disposizioni al decreto di governo. Vorrei chiarire per chiudere quella che non è una polemica ma una legittima richiesta, che il nostro ruolo ci impone e che sarebbe rimasta nel silenzio dei canali istituzionali se altri non avessero deciso di scendere in polemica o ricostruzioni. Noi, attenendoci alle disposizioni dell'Istria e dei decreti governativi, abbiamo chiesto al comune, tramite i canali istituzionali e i nostri consiglieri, l'annullamento della distribuzione pubblica delle mascherine, optando invece per una distribuzione a domicilio e su prenotazione. Semplicemente questo per evitare gli assembramenti inutili e rischiosi che sono vietati dalle autorità. Per quanto riguarda l'iniziativa lodevole di produzione delle mascherine non certificate, nulla da eccepire. Uniti ce la faremo a superare questa emergenza il più presto. Il sindaco di Nino, anche alla luce della protesta dell'opposizione, ha deciso di annullare la distribuzione pubblica procedendo già da oggi a quella domiciliare su prenotazione. Il compito della distribuzione sarà affidato ai volontari della protezione civile. Intanto si continua a discutere anche sull'assenza della certificazione del prodotto che l'ente ha deciso di distribuire per colmare una carenza importante venuta fuori in un momento di emergenza. È sempre per la prevenzione dal contagio. La Polizia Locale ordina 66 mascherine. 66 mascherine FFP2 e 22 gel igienizzanti per mani. È l'ordine che è partito lo scorso 13 marzo con determina firmata dal comandante Leonardo Mercurio per gli agenti appartenenti a corpo di polizia locale. Considerata l'emergenza sanitaria che coinvolge l'intero territorio nazionale, dato atto che il personale del corpo di polizia locale, organo destinato al controllo del territorio, sul rispetto delle prescrizioni in materia di sanità pubblica disposte dal governo e quindi esposto ordinariamente nel corso del servizio a rischio di contagio, si legge nella determina, ritenuto necessario e doveroso dotare il personale di appropriati dispositivi e più precisamente ridotare individualmente le appartenenti al corpo di mascherina protettiva FFP2 e di gel igienizzante per le mani, al fine di dotarli di una valida protezione contro il rischio di contagio dal virus Covid-19, è stata impegnata la somma di 1.245,20 euro per la fornitura di mascherine affidata a una ditta locale. Gli agenti sono dotati al momento di tutti i dispositivi previsti, visto che le mascherine sono state concesse dalla protezione civile, da cui l'esigenza di una fornitura ad hoc per i vigili urbani. È pronto e operativo da ieri l'unico posto di terapia intensiva allocato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona, ma mancano i dispositivi. È quanto emerso dalla visita effettuata dal sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che ha salutato e ringraziato il direttore del reparto, Vincenzo Pace, e tutti gli operatori sanitari che in questi giorni sono in prima linea per la gestione dell'emergenza Covid-19. Il nosocomio cittadino è dotato di un solo posto di terapia intensiva, il cui adeguamento, cioè la stanza a pressione negativa, è stato disposto con delibera della ASL dallo scorso 6 marzo, come anticipato da Onda Tg. Sulmona quindi non è un centro Covid, ma può accogliere solo un soggetto che necessita di terapia intensiva, anche se al momento mancano i dispositivi di prevenzione e sicurezza per i sanitari. Si parla in particolare delle tute e di altro corrente necessario per la terapia intensiva. E' proprio nella giornata di ieri e si è parlato di un possibile primo ricovero, un uomo di Pistoia risultato positivo al coronavirus, poi dirottato altrove. Il personale ed il direttore hanno allestito la stanza, ma ora serve il materiale idoneo. Mi ha accolto il personale medico e infermieristico, al quale ho portato il saluto e il ringraziamento della città, ha sottolineato il sindaco Casini. Ho portato il nostro sostegno che vorrei dia loro più forza e coraggio per affrontare questa emergenza sanitaria che si gioca tutta in corsia. Ma il vero contributo che loro chiedono è che si abbiano comportamenti responsabili, ha ripreso la Casini. Per questo continuo a chiedere senza sosta di restare a casa per contrastare il contagio. Meno gente incontriamo, meno infettiamo, meno sovraccarichiamo il nostro sistema sanitario, più il nostro personale sanitario sarà in grado di gestire in serenità questa emergenza. Un tampone in ospedale a Castel di Sangro in due sotto osservazione. Vediamo. Due casi sotto osservazione a Castel di Sangro per sospetto coronavirus. Si tratta di una donna del posto per la quale è stato attivato il protocollo da Covid-19 e un turista campano che nelle scorse settimane ha soggiornato in paese in una struttura ricettiva. Entrambi si trovano sotto monitoraggio sanitario. La donna a Castel di Sangro è l'uomo nel centro campano in attesa dei risultati del test da Covid-19. Il soggiorno del turista risale almeno a dieci giorni fa, il che fa pensare che per i soggetti entrati in contatto con lui non dovrebbero esserci particolari problemi. L'asle campana sta comunque tracciando tutto il percorso del turista e sta individuando le persone entrate in contatto con lo stesso che dovranno restare in quarantena obbligatoria almeno per quattro giorni. Una buona novità riguarda il presidio ospedaliero di Castel di Sangro. Una novità per il nostro presidio ospedaliero è stato attivato il tampone, quindi insomma i pazienti che dovessero avvertire sintomatologie riconducibili assaltamente o concretamente all'infezione da coronavirus vengono accolti nel pretriage, sempre col suo dipercorso, chiamando il 118, comunque chiamando il medico di famiglia, per cui si attiva il percorso e vengono poi prelevati all'interno del pretriage. Si avvia questo percorso e quindi in qualche modo abbiamo la facoltà di poter attendere l'esito del tampone già qui a Castel di Sangro, in ogni caso di fare il prelievo qua evitando spostamenti e altri tipi di disagi per i pazienti. Una novità importante, una novità per la quale ringrazio il direttore sanitario del presidio, Maurizio Masciulli, e tutti coloro che ovviamente partecipano a questo processo di indagine. E quanto annuncia il sindaco Angelo Caruso, che aggiorna quotidianamente la popolazione sull'evoluzione della situazione sanitaria. Il lavoro al tempo del coronavirus, un premio di 200 euro per gli operai del Refresco. Un premio di 200 euro per i lavoratori del Refresco di Sulmona, come gratifica del loro impegno in un periodo assai delicato che l'Italia sta attraversando. La somma sarà erogata nello stipendio di aprile. Abbiamo visto uomini e donne lavorare istancabilmente e meravigliosamente in soccorso dei malati, afferma l'amministratore delegato Roberto Rossi. Abbiamo visto e vediamo lavoratori e lavoratrici superare le difficoltà della situazione per assicurare la continuità degli approvvigionamenti alle famiglie costrette in casa e consentire al Paese di continuare a marciare. Noi stiamo facendo la nostra parte, prosegue l'amministratore delegato, nella lettera inviata ai dipendenti. E le persone di Refresco Italia stanno rispondendo meravigliosamente all'appello di garantire le produzioni e contribuire alla continuità della filiera alimentare. Sono orgoglioso di voi e a riconoscenza del vostro impegno l'azienda erogherà 200 euro a tutti i dipendenti. Iniziative come quelle della Refresco sono importanti soprattutto in questo momento, afferma il responsabile per Abruzzo e Molise della FAI CISL Franco Pescara. Ricordarsi delle lavoratrici e dei lavoratori, ringraziarli anche con una parte economica, non può che essere molto apprezzato da me e dalla FAI Abruzzo Molise. Ci auguriamo che altre aziende siano così sensibili verso coloro che non possono stare a casa. Oltre a personale sanitario a cui va il nostro ringraziamento, ci sono i lavoratori dell'industria alimentare. Torneremo ad abbracciarci più forte di prima per dirla con le parole del Premier Giuseppe Conte. Oggi però quell'abbraccio manca insieme a tante altre abitudini della socialità. Ne abbiamo parlato ieri sera con Antonella Di Mattia, dottoressa in psicobiologia del comportamento, nella rubrica settimanale Pronto 18. 20 minuti di domande e riflessioni su come è cambiata la vita al tempo del coronavirus e come taluni rapporti, da quelli più intimi a quelli familiari, si sono modificati. Quanto vale un abbraccio? Come gestire ansia e paura? Come affrontare l'isolamento? Come gestire le emozioni in un tempo di emergenza mondiale? Vorrei avere questo potere e credo sicuramente di non averlo, però posso dire questo, che in generale l'ansia, il bilancio estrapolata da una situazione di pandemia, va gestita con interventi metodici, cioè fare una cura del corpo metodica, possiamo dedicarci più magari a una cura personale per le donne, per gli uomini che prima non la avevamo, quindi creare una routine che ci tranquillizzi, cioè siamo più tempo pura per noi stessi, pura per la cucina, pura per la casa, crearci uno schema giornaliero, settimanale che non dia spazio all'ansia di aggredirci, quindi occupare la nostra mente, che sarebbe dimorata poi dall'ansia, con altre attività. Riscopriamole, leggere un libro, chi non è interessato alla lettura può riscoprire altre attività, anche fisiche, è stato a casa, qualsiasi cosa, la nostra mente nel medioevo è stata l'epoca della furitura più grande delle genialità, non avevano internet, uscivano di casa perché sì, le pandemie ci sono state, però non ci ricordiamo bene come le hanno vissute, non sono state documentate dai medici. Sì, sì, nell'era digitale è più difficile sicuramente. Esatto, però ecco, la forza insida in noi stessi, la dobbiamo riscoprire, ce l'abbiamo e ognuno di noi in fondo la riscoprirà. L'intervista integrale è disponibile sulla nostra piattaforma di Youtube. A causa del coronavirus e del decreto di governo finalizzato a contrastarne il contagio, il presidente della giostra cavaleresca Maurizio Antonini e Walter Tirimacco, tra gli organizzatori della quarta edizione del raduno nazionale della Ferrari Sulmona in rosso, programmata per il prossimo 18 aprile, hanno annunciato il rinvio a data da destinare delle due manifestazioni. Al momento a causa della situazione di emergenza del coronavirus in costante evoluzione, affermano Antonini e Tirimacco, a malincuore siamo costretti a rinviare le due manifestazioni. Sarà nostra premura comunicare la nuova data per entrambe, la cosa più importante al momento è che l'emergenza sanitaria cessi al più presto. Tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook e sul sito internet, l'informazione torna stasera alle 20 in diretta qui in studio con Andrea D'Aurelio per oggi. È tutto a voi, buon pomeriggio, arrivederci. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento ad iniziare ad altera mano, in estensione verso le restanti zone del corso della giornata, ma non si prevedono fenomeni di rilievo in quanto si tratterà di nubi medio-alte che solitamente non danno luogo a precipitazioni. Dal pomeriggio sera la nuvolosità tornerà nuovamente ad attenuarsi e nella giornata di domani splenderà il sole su gran parte della nostra regione. Temperature generalmente stazionarie, possibili gelate sulla Marsica e nell'Aquilano durante le ore serali, notturne al primo mattino. Venti deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e sull'Adriatico centrale, mare generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento.